Sampdoria Salvataggio poi Dunfris Scivolata va a terra Dunfris Var calcio di rigore per l'Inter Parte Lukaku Col sinistro parato Palla sotto a porta E' il primo ad arrivare Masina Tutti a festeggiare Silvestri Si rimane sullo 0-0 Ha sbagliato dal dischetto Romelu Lukaku Var e calcio di rigore Da ripetere Parte Lukaku Sinistro Angolato E questa volta è gol 1-0 Per Aira che la spinge su Vede libero l'ovricinare di rigore Controllo Poi destro Ha pareggiato l'udinese L'ovric Marella Centrale Mkhitaryan Tocco dentro 1-2 con Di Marco Calcia Silvestri Palla persa da Becao Va in porta Dunfriis se la ritrova tra i piedi Ma l'Inter è già dall'altra parte C'è la Noglu spingere il pallone Largo c'è Di Marco Palla per lui Che crossa di prima Mkhitaryan Mkhitaryan Lautaro la palla passa su Bion Lautaro Questa volta no Non sbaglia 3-1 Inter Titoli di coda L'Inter vince 3-1 Sull'udinese Restituendole Il risultato dell'andata Il risultato dell'andata